Sì, io ho un lavoro che mi piace, ma soprattutto ho degli interessi che stimolano la mia creatività. Io no. Non hai interessi? Sì, sì, io non ho lavoro. Io mi interesso di fotografia. Ho una Canon che mi è accostata. Ah, e poi mi piace viaggiare. Mi piace conoscere posti nuovi, gente nuova. L'anno scorso mi sono fatta Stati Uniti, Messico e Peru, tutto in due mesi. Ti immagini? No. Io sono una di quelle persone che se anche esce la sera solo per farsi una passeggiata, io mi porto 100 euro che non si sa mai. Io no. Io penso che bisogna essere ottimisti. Perché è così che vanno avanti le cose? Io no. Io credo che i politici, sì, la risolveranno in questa crisi. Io no. Io l'ultima volta non sono riuscita a votare perché stavo facendo un weekend a Capoverde, ma se dovessi votare ora, voterei Craxi. Ma è morto Craxi. Io li ho detti tutti e due, sai. Sia Marx che l'altro. Come si chiama l'altro? E penso che hanno ragione tutti e due. Libero mercato e libero pensiero. Liberi tutti. È nascondino. Sì, una specie. E tu? Non parli. Cosa pensi? Io penso che andrò a Roma il 15 ottobre a dire no. E penso che saremo in tanti a dire no. Tu? Cosa fai? Ci vieni. Cosa pensiero? Cosa pensiero? Cosa pensiero? Cosa pensiero? Grazie a tutti.